ciao a tutti oggi nuova collaborazione con panda o select ed è arrivato il pacco vi faccio vedere quello che ho scelto poi vi metterò il link nell'info box del sito e delle cose che mi sono arrivate che ho scelto bene andiamo a spacchettare detto qua e iniziamo allora siccome io ho iniziato a lavorare le lastre di metallo e mi faccio le basi da sola per gli orecchini e quant'altro ho scelto questo set di scusate ho aperto alla rovescia ora vi faccio vedere ecco qua la bottoniera vedete questo è un 17 mm ognuno ha la sua il suo numero e questo serve per dare una forma bombata a quello che vogliamo fare orecchini ciondoli e quant'altro si mette così sopra al nostro pezzo e col martello ma dobbiamo avere anche una base sotto un po arrotondata poi farò vedere però voglio dire che questa è bellissima arriva nella sua confezione e sono tanti e grandi questo suo coperchio o poi ovviamente mi sono scelta le lastre questa queste cioè sono lastre in alluminio questa è arrivata un po piegata la metteremo a posto ho scelto queste che sono un po più grosse perché le sottili comunque le ho vedete a poi vi faccio vedere il codice allora il codice delle lastre è questo mentre il codice della bottoniera non c'è ah sì è questo ora lo attacco nella bottoniera in modo che quando quando farò il video vi faccio vedere vi faccio vedere il codice questo sono quelle delle lastre ho detto ed infine ho scelto questi che sono per fare l'orient superiori questo è il codice sono ci sono delle monachelle di vario tipo ora apriamo poi stacco il codice lo mettiamo dietro e vi faccio vedere questi sono i gommini questi sono un tipo di monachella molto carine queste sono quelle tradizionali con i suoi ferma queste sono a pallina bellissimi questi sono i tradizionali e poi ci sono questi bene questo è tutto nei prossimi giorni farò un video e vi faccio vedere come fare un paio di orecchini andate nel sito della select and all questo e vedrete che ha tantissime cose a buon presto e niente io con questo video spero che abbia fatto piacere la condivisione come ho detto metterò il link nell'info box e metterò anche nell'info box un codice sconto e niente ciao al prossimo video a più